L'ospedale San Giuseppe di Copertino continua a perdere tasselli importanti. L'ultimo in ordine di tempo è il centro trasfusionale, che è calibrato a sole 6 ore e già nel piano di riordino adottato nel 2017. Adesso prevede solo attività di raccolta del sangue, ambulatorio trasfusionale e raccolta plasma. Una decisione, quella dell'ASL, da tutti definita inconcepibile, considerato non solo che si tratta di un centro d'eccellenza, ma anche che è in estate, che notoriamente cresce in maniera esponenziale alla richiesta di sangue e Copertino in tal senso si trova in una posizione strategica. Ma quello del centro trasfusionale, a detta del sindaco Sandrina Schito, è solo la punta dell'iceberg di un ospedale ritenuto essenziale per la salute di tutti, ma ormai declassato a struttura di base. Drastico anche il consigliere comunale Alessandro Nestola, secondo il quale si è arrivati ai titoli di coda di un ospedale che vantava chirurgia di livello, numeri eccellenti e grande operatività. Un ospedale che invece, dice, a causa delle scelte politiche degli ultimi anni, è stato stravolto e ridotto a un piccolo ospedale di periferia, declassato e sminuito. E anche la notizia della conversione del centro trasfusionale in articolazione organizzativa ha il sapore di una beffa per un ospedale che ha ancora operativa l'attività chirurgica. Critico anche il commento di Cobas e Fialz e in verosimile dicono che nel giro di 48 ore si possa procedere a una riorganizzazione di tale genere che prevede trasferimento di personale e per questo diffidero l'ASDA procedere senza preavviso e chiedere un incontro urgente con l'organizzazione sindacale e aziendali e allargato i dirigenti sanitari per discutere del piano di riorganizzazione.